video ecco qua siamo pronti per aprire le prime figurine del giro in italia amore infinito 0 1 già scritto 0 1 si amore fin 2001 noi gabriele cosa cerchiamo damiano caluso della bmc vediamo se siamo fortunati fa un po la musichetta tan 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 sono le prime figurine che ha venduta dal bisola superiore siamo i primi a sceglierle vediamo vediamo un po vediamo un po se siamo così fortunati alla prima botta è allora che grandi che sono tutti quali sono la sua squadra sono web niente 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 andiamo avanti andiamo avanti si ti aspettiamo te lo diciamo vediamo vediamo un po cosa esce adesso allora questa cos'è una squadra no sky mi ha trovato sky un lupetto un lupetto e la coca cola coca cola ci abbiamo la borraccia giulia non abbiamo trovato ancora damiano doppia doppia mamma mia quick step niente ok andiamo avanti noi non ci rendiamo facciamo prendere la mamma aspetta ma c'è ancora una ah guarda queste sono le tappe quale una per le tappe cosa ha preso si una per la mamma vediamo se la mamma c'è la mano fortunata bora bora sun web e la bicicletta qua l'ultima ultima soffia soffia gabriele soffia soffia bmc bmc io spero di avere la una una giù gabriele gabriele che c'è la mano fortunata sky sky bmc bmc ebbè ci siamo andati vicino bravo gabriele una una